Nei giorni scorsi, nei comuni di Gela e Niscemi, la Polizia di Stato ha eseguito diversi controlli a sale giochi e scommesse nell'ambito del progetto investigativo ad alto impatto delle squadre mobili. I predetti servizi, finalizzati a contrastare i fenomeni malavitosi diffusi in particolari aree ad alta intensità criminale, sono stati coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Nella provincia nissena i poliziotti della squadra mobile e del Cisco, coadiuvati da quelli dei due commissariati di pubblica sicurezza, da equipaggi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e da unità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno controllato 18 sale giochi e scommesse. Nel corso dei controlli, finalizzati anche a verificare il rispetto del divieto di gioco convincita in denaro da parte dei minori di 18 anni e contrastare il gioco illegale nel settore delle scommesse, sono state elevate due sanzioni per organizzazione di scommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza di polizia, una per pubblicità di scommesse abusive e una per aver raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto.